Ciao a tutti, i dieci comandamenti di una relazione di vero amore. Prima di affrontare il tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, nonché iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora, quali sono i dieci comandamenti di una relazione di vero amore? Allora, il primo è che non si tenta di cambiare l'altro, perché se tu tenti di cambiare l'altro, diciamo che non si tratta di amore vero, ma si tratta di amore, potremmo dire, farlocco, diciamo così. Quindi, evitare di cercare di cambiare l'altra persona. Secondo comandamento, accettare le differenze dell'altro, dell'altra persona, rispettare le sue differenze. Terzo comandamento, bisogna dare e ricevere. Cioè, le relazioni dove c'è solo uno che dà e uno che riceve, non funzionano. Ci deve essere uno scambio. Ci deve essere uno scambio. Quarto comandamento, si incentiva l'altro nel miglioramento, e quindi non si hanno manifestazioni di gelosia di nessun genere verso un'altra persona. Si condividono le cose positive, non si vive a compartimenti stagni, diciamo così, perché se vive a compartimenti stagni, beh, allora non è una relazione poi così efficace da questo punto di vista. Come sesto comandamento, c'è una relazione basata anche su una progettualità di coppia. Cioè, si definiscono degli obiettivi comuni, fondamentalmente. Settimo comandamento, ci sente liberi del comunicare, senza particolari vincoli. Ottavo comandamento, si valorizza l'altra persona, attraverso anche manifestazioni, diciamo, verbali. Si cerca di valorizzare l'altra persona. Nono comandamento, non ci si deve nascondere di te i ruoli. Tu sei la donna, io sono l'uomo. Cioè, i ruoli devono esistere, ruoli particolari. Cioè, dobbiamo vivere scambiando i ruoli, anche perché i ruoli sono soltanto degli schemi che non hanno nessun senso. E poi, il decimo comandamento, c'è un forte intimità nella coppia. Cioè, le coppie vivono bene le relazioni, anche sessualmente, fisicamente. Si crea una grande intimità. Questo è i dieci comandamenti di una relazione d'amore vero. Per questo video è tutto. Seguimi sul pagino Instagram, Massimo Toramasco. Iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere. Di tutti i posti e link in descrizione. Ciao a tutti.